Diego, che cos'è l'ufficio faccia? L'ufficio faccia è un'opportunità che si dà della gente che pensa di poter avere delle chance nel nostro mestiere, farsi vedere per raccontare quello che è da raccontare, senza dover per forza però passare per le agenzie che ti chiedono dei soldi, per la gente che, insomma ci sono tanti che io vedo ho fatto un provino, mi hanno fatto fare il provino, mi hanno voluto il book, alla fine vedi che gli hanno portato via anche dei soldi, noi ci teniamo ad avere dei video originali perché la selezione sarà fatta in questo senso, se i video sono già stati mandati in rete da molto tempo ovviamente non sono più originali per noi, allora o li rifate per noi, magari fatte anche meglio se vi vengono, ci teniamo che siano fatte con la voglia di raccontare qualcosa di originale, uno digita ufficio faccia su youtube, lo manda lì, noi lo prendiamo in considerazione a prescindere. Sarai tu a fare la selezione? Io mi presto a fare da capogita, poi ci saranno altri miei colleghi, altre persone che secondo noi sono all'altezza, insomma noi siamo in tanti a lavorare. Quindi devo inviare il mio filmato a Ufficio Facce su youtube, un'operazione gratuita purché il mio filmato sia originale? Sì, deve essere originale, fatto per me. Devo dirti che la tua faccia la vedo già, non è utile che invi il filmato perché tu sei perfetto per l'Ufficio Facce, una faccia come la tua è da Ufficio Facce. Ancora grazie. Ah, grazie a te. Grazie. 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 Grazie.